Saranno nove i container sui quali si effettuerà direttamente nel porto di Salerno la caratterizzazione dei rifiuti provenienti dalla Tunisia e fermi da un mese nello scalo commerciale di Salerno. C'è l'ok sommario della Procura di Potenza impegnata nell'inchiesta che vede al lavoro Vincenzo Montemuro un tempo alla DDA di Salerno ed oggi alla Procura di Potenza sull'operazione all'interno del porto prima del trasferimento nell'area individuata nel comune di Serre. Unico vincolo posto dai magistrati lucani che questa mattina si sono confrontati telefonicamente con il prefetto di Salerno Francesco Russo e che l'area sia idonea all'operazione. La notizia è stata poi trasferita ai partecipanti alla riunione del Comitato straordinario per la sicurezza e l'ordine pubblico allargato questa mattina in prefettura di Salerno alla presenza del vicepresidente della regione Campania Assessore all'ambiente Fulvio Bonavitacola per l'EDA Giovanni Coscia la provincia di Salerno ma soprattutto i sindaci della Piana del Sele. È partita proprio dai primi cittadini la proposta di non trasferire i rifiuti prima di analizzare il contenuto degli stessi ed accertarsi che all'interno ci sia davvero rifiuto secco indifferenziato. Ad accrescere le preoccupazioni e le indiscrezioni emerse nei giorni scorsi che invece all'interno dei 213 container con 6.390 tonnellate di rifiuti che la SRA di Polla aveva spedito in Tunisia ci sarebbero rifiuti provenienti da scarti ospedalieri. A ribadire la sua posizione era stato questa mattina prima dell'incontro in prefettura il sindaco di Serre Francesco Mennella. Alla luce di quello che è il decreto della Corte di Cassazione in cui ci stanno delle motivazioni ben precise è chiaro che siamo ancora più allarmati perché se si parla di rifiuti ospedalieri fotografati quindi le autorità tunisine hanno detto noi questi rifiuti non ce li prendiamo perché ci sono dei rifiuti ospedalieri che non sono autorizzati a venire qui e li hanno rispediti dietro allora il problema è molto più complesso perché siti in Campania per caratterizzare rifiuti ospedalieri a nostra modesta conoscenza però questo dovrebbero darle poi dopo le autorità competenti non ce ne sono quindi a maggior ragione come possono venire a Serre? E nel preventivare una caratterizzazione credo che la cosa più logica e giusta da fare dire poiché probabilmente un buon padre di famiglia che fa? Dice ci stanno probabilmente perché ci stanno delle foto i tunisini, le autorità tunisine ci hanno detto guardate che non sono per noi validi non sono idoni questi rifiuti portateveli di nuovo indietro quindi capisce la nostra preoccupazione e la preoccupazione delle popolazioni La stata ottimale quindi in questo momento è quella di caratterizzare i rifiuti al porto in modo che poi si possa decidere in base a ciò che è dall'esito Dovrebbe essere la cosa più logica però poi non ho capito perché guardi la logica dice la legge dice il sito più vicino il sito di stoccaggio più vicino che non è Serre ce ne stanno altri e non voglio dire che perché non deve essere il sindaco di Serre o di Altavilla a dire non lo deve portare da me lo deve portare a casa di qualcun altro non è corretto non è giusto però stanno facendo un po' un gioco questo la regione non molto chiaro perché ecco scegliere un sito senza coinvolgere le autorità locali significa avere delle intenzioni non chiare secondo me grazie a tutti